A voi tutti buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con Prato 7 per ripercorrere i fatti salienti avvenuti nel corso della settimana. Andiamo a ritroso, iniziamo dal lunedì 27 gennaio quando sono stati annullati i festeggiamenti per il capodanno cinese. In particolare sono state annullate le due sfilate del Dragone, nessuna motivazione di tipo sanitario ma un gesto di solidarietà nei confronti della nazione che sta vivendo un grave momento di difficoltà. Niente sfilata del Dragone per le vie della città in segno di solidarietà al difficile momento che sta vivendo la Cina. Il Tempio buddista cinese di Prato, Puasi e le associazioni di amicizia Italia-Cina del territorio hanno deciso di comune accordo di annullare i festeggiamenti per il capodanno cinese. In particolare non si tranno le tradizionali sfilate del Dragone previste per sabato primo e domenica 2 febbraio. Nessuna motivazione di tipo sanitario è bene precisarlo ma un gesto di solidarietà nei confronti della Cina, sottolinano gli organizzatori, ritenendo inopportuni festeggiamenti in un momento così difficile per i loro concittadini. L'amministrazione comunale di Prato ha preso atto di questa scelta e l'ha condivisa. Innanzitutto non ci è sembrato il caso fondamentalmente di fare la sfilata, soprattutto per sobrietà, te lo dico sinceramente, e poi per solidarietà nei confronti di una tragedia che comunque sta succedendo in Cina e che comunque ci colpisce. Se non da un punto di vista sanitario, attualmente da un punto di vista emotivo sicuramente. Da una riunione con il console a quel punto abbiamo deciso di soprassedere e eventualmente di rimandare in tempi migliori. Intanto anche nella comunità cinese che vive a Prato c'è preoccupazione per quanto sta accadendo in Cina. Siccome abbiamo molti familiari e amici in Cina è un periodo difficile anche per noi. Per esempio personalmente io ho la nonna che è in Cina e continuamente le diciamo di rimanere a casa, di stare tranquilla. Comunque è un periodo insomma dobbiamo stare tutti insieme e vogliamo portare insomma solidarietà e vogliamo stare insieme a coloro che sono in Cina. Perché il capodanno cinese è l'evento più importante dell'anno per la comunità cinese. Molti aspirano a questo giorno per ritornare a casa dai propri genitori e dalla propria famiglia, ma a causa di questo virus purtroppo sono rimasti bloccati in altre città. Quest'anno dunque il Dragone non sfilerà per le vie della città, confermata invece la performance dell'artista Ai Teng che la mattina di domenica prossima affiggerà sulle pareti di via Pistoiese 716 stampe della tradizione cinese che augurano pace, salute e prosperità per il nuovo anno. Estiterranno regolarmente anche altre iniziative come la Tombola del Dragone, l'anteprima del film Il Drago di Romagna e tutte le visite guidate previste al Tempio di Prato. E ancora lunedì a proposito del coronavirus è intervenuto il presidente della provincia di Prato, Francesco Pugelli, che ha sottolineato nessun allarmismo, anche nelle scuole valgono le stesse indicazioni delle autorità sanitarie. Non c'è assolutamente nessun allarme coronavirus specifico per Prato, tantomeno per le scuole superiori pratesi. A rimarcarlo è il presidente della provincia, Francesco Pugelli, dopo che in questi giorni, nonostante le rassicurazioni che provengono da fonti sanitarie accreditate, si continua ad assistere a tentativi di seminare panico e caos. A Prato, ricorda Pugelli, valgono le stesse indicazioni che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute e le autorità sanitarie locali stanno diramando per tutte le altre città e che il coronavirus è di gran lunga molto meno preoccupante di altre malattie che sono presenti in Italia, che sono ben più gravi e la cui possibilità di contagio è molto più alta. Una fra tutte la comuna influenza che in Italia, da inizio anno, fa sapere Pugelli, ha fatto ben 225 vittime al giorno. È bene rassicurare tutti i pratesi sul fatto che la situazione nelle scuole, ma anche in città, è sotto controllo. Di fatto, le autorità sanitarie stanno monitorando costantemente la situazione, ma soprattutto preme ricordare che non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale e internazionale, esiste un sistema di sorveglianza sanitaria messo su dalle autorità scientifiche internazionali, atto proprio a monitorare e tenere sotto controllo le malattie infettive. Pugelli ricorda che a Prato, come nel resto della Toscana, gli studenti che si assentano da scuola devono presentare il certificato solo se il figlio viene mandato a casa con la febbre o altri sintomi influenzali oppure dopo cinque giorni di assenza. In tutti gli altri casi, il certificato non deve essere richiesto. Purtroppo, afferma Pugelli, nelle nostre scuole, sull'onda delle motività e dalla paura generata da notizie infondate, ci sono stati casi in cui il certificato è stato richiesto anche dopo un solo giorno. Questo non serve a proteggerci, rischia solo di generare ansie e timori immotivati. Aggiunge il presidente della provincia, mettendo in guardia dalle cosiddette fake news che generano psicosi collettive e discriminazioni di vario tipo, collegando strumentalmente le persone di etnia cinese con il coronavirus. Lo stesso Pugelli, medico di professione, ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook per fare luce sulla situazione. Qualcuno mi ha detto in questione, ma allora la comunità cinese che vive in Italia? Abbiamo detto che la via di trasmissione è quella locale, da uomo a uomo. Non si sono registrati i casi primari al di fuori della Cina, quindi in questo momento a rischio sono solo coloro che hanno viaggiato in aereo. Tutti i residenti in Italia hanno il medesimo rischio. In questo periodo la cautela ovviamente è d'obbligo, ma come è d'obbligo la cautela da parte delle autorità sanitarie è ancora più d'obbligo la cautela da parte delle fonti informative che devono comunicare la notizia solo quando è accertata e parlare di numeri soltanto veri e basati sulle fonti dati scientifiche accertate e anche da parte nostra, di noi cittadini, informarsi presso le fonti più attendibili. E adesso passiamo a martedì 28 gennaio, quando due tintorie sono state condannate per condottanti sindacali, una vittoria di CGL, CISL e UIL che tirano le orecchie ai Sicobas. Due aziende, la Tinto Group e la Tinto Mass, sono state condannate con tre diverse sentenze per condotta antisindacale. I tre procedimenti mostri dai sindacati testi di CGL, CISL e UIL riguardano la cessazione e il trasferimento d'azienda della Tinto Group nella Tinto Mass. I sindacati hanno contestato e le sentenze hanno poi dato loro ragione il fatto che le due aziende non abbiano rispettato la legge nel comunicare i passaggi che hanno portato alla cessazione della Tinto Group e alla successiva acquisizione dell'azienda da parte della Tinto Mass. L'articolo 47,2 della legge 428 del 90 prevede infatti che debbano decorrere almeno 25 giorni tra la comunicazione ai sindacati e la cessione dell'azienda, cronologia che le due tintorie non hanno rispettato. Nella ricostruzione fatta dal giudice, la prima comunicazione a CGL, CISL e UIL del 5 settembre 2019, missiva nella quale si precisa che l'attività della Tinto Group sarebbe stata trasferita nella Tinto Mass nella presumibile data del 20 settembre 2019 interessando 39 lavoratori. Da allora il carteggio tra sindacati e aziende è andato avanti alcuni giorni fino all'incontro del 17 settembre a cui il giorno dopo è seguita poi la cessione effettiva. 13 giorni dopo la prima comunicazione quindi. CGL, CISL e UIL nel frattempo non hanno sottoscritto nessun accordo con le proprietà forti del fatto che secondo la legge i lavoratori sarebbero stati riassorbiti alle stesse condizioni precedenti. Accordo che invece era stato sottoscritto da SICOBAS i cui iscritti avevano scioperato tra giugno e luglio. Chiusi battenti la Tinto Group ha chiesto il concordato e la Tinto Mass ha effettivamente assorbito a 39 lavoratori che vantano comunque alcune mensilità arretrate dalla precedente gestione. Il messaggio che vogliamo dare alle imprese pratesi è che quando si fa un trasferimento d'azienda si rispettano le norme e le procedure che sono previste perché sono le procedure e i tempi dettati da queste procedure che garantiscono a noi di poter garantire la tutela dei lavoratori. L'altro messaggio che mandiamo in generale è che per quanto riguarda il sindacato confederale in questo territorio le leggi si rispettano in generale in special modo quelle a tutela dei lavoratori e noi ci battiamo perché questa cosa succeda tutti i giorni e non abbiamo problemi a portare in tribunale tutte quelle aziende che questa cosa non la fanno. Le parole di CGL, Cisle e Will non celano il disappunto verso la condotta di Sicobas che ha sottoscritto un accordo con le aziende pur di fronte a comportamenti antisindacali. Non ha rispettato le norme previste dalla legge come abbiamo fatto noi nemmeno a noi è stato presentato un accordo nei termini di legge e quindi per questo ci siamo come dire rivolti al tribunale. La democrazia non è semplice non ha nemmeno bisogno di strigli e di urli ha bisogno di rispetto delle regole di presenza seria e organizzata su questo noi ci siamo e credo che le aziende queste cose le capiscono. Noi abbiamo cercato sempre di venire incontro e di trovarsi nel momento opportuno quando hanno avuto bisogno le aziende ma vogliamo semplicemente che vengano rispettate le regole né di più né di meno. Sempre mercoledì ci occupiamo ci siamo occupati della vicenda dei presunti abusi sessuali su minori sono stati indagati nove membri dei discepoli dell'annunciazione in precedenza la diocesi aveva avviato un procedimento canonico. Nove avvisi di garanzia per violenza sessuale di gruppo su minorenne sono stati notificati ad altrettanti membri sacerdoti e non dell'associazione pubblica di fedeli discepoli dell'annunciazione. Le presunte vittime sono due fratelli che oggi hanno 27 e 21 anni e che negli anni passati si sono avvicinati ed hanno vissuto nella comunità religiosa fondata dal sacerdote veronese Giglio Maria Giglioli. Perquisizioni disposte dalla procura di Prato ci sono state nei giorni scorsi nella casa madre di via Bologna ma anche in Garfagnana e ad Aulla dove si trovano altre sedi della comunità che è stata sciolta con decreto della Santa Sede lo scorso dicembre per motivazioni indipendenti rispetto a quelle formulate dalla procura. L'inchiesta penale è nata alcuni mesi fa quando i servizi sociali del comune di Prato che assistano la famiglia delle vittime hanno fornito alla procura una stringata relazione nella quale si dichiara di aver appreso la notizia dei presunti abusi risalenti a molti anni prima quando uno dei due fratelli aveva meno di 14 anni. In particolare sarebbe stato un percorso psicoterapeutico a fare riaffiorare ricordi e traumi latenti in uno dei giovani. Gli inquirenti nelle scorse settimane hanno sentito entrambi i ragazzi le cui parole devono essere riscontrate nel proseguo delle indagini coordinate dai sostituti procuratori Laura Canovai e Valentina Cosci. La diocesi di Prato che aveva raccolto la denuncia di uno dei due ragazzi nel giugno scorso aveva subito aperto un procedimento amministrativo penale secondo le norme del diritto canonico e ha collaborato all'inchiesta della magistratura. Lo stesso Vescovo Nerbini si è recato lo scorso dicembre di propria spontanea iniziativa presso la Procura della Repubblica di Prato per fornire elementi utili alle indagini. E sulla vicenda è intervenuto anche il Vescovo Monsignor Giovanni Nerbini che ha espresso grande dolore e ha sottolineato spero che emerga presto la verità. Tutta questa vicenda indipendentemente poi da come andrà a finire è un'occasione di grande dolore vedendo poi le sofferenze che questo ha suscitato in tutti chi accusa, in chi è accusato in chi ascolta, in chi vede. Così il Vescovo Giovanni Nerbini ha commentato la notizia degli avvisi di garanzia inviati a nove membri dell'ex associazione pubblica discepoli dell'annunciazione nel frattempo soppressa accusati di abusi sessuali. Monsignor Nerbini ha espresso fiducia nella magistratura dichiarando che al momento sono due le priorità la ricerca della verità e la collaborazione con l'autorità civile. Io so come ci siamo mossi noi e l'ho detto poco fa soprattutto rispondendo a un bisogno di verità e quindi la verità che andava cercata andava scoperta e andrà evidentemente poi fatta conoscere e poi ecco questo che potesse avvenire in un clima di collaborazione anche con quell'autorità civile che deve indagare con i suoi strumenti e questo è bene che faccia. Ecco noi siamo stati e lo siamo ancora pronti alla collaborazione. Il Vescovo ha poi cercato di ricostruire i fatti. Tutto è cominciato lo scorso giugno quando all'allora Vescovo di Prato Franco Agostinedi era stata presentata una denuncia da parte di un giovane membro dell'associazione discepoli dell'annunciazione. Il giovane aveva raccontato che diversi anni prima quando era minorenne aveva subito abusi sessuali psicologici all'interno della comunità. Il Vescovo aveva dato immediatamente comunicazione alla Congregazione per la Dottrina della Fede che a settembre ha disposto la celebrazione di un processo amministrativo penale. Monsignor Nerbini appena insediato è immediatamente provveduto all'apertura del procedimento tuttora in corso secondo le norme del diritto canonico. Senza attenderne le conclusioni il Vescovo si è recato lo scorso dicembre di propria spontanea iniziativa presso la Procura della Repubblica di Prato apprendendo che era già stato avviato un'inchiesta in merito. Attualmente gli esponenti dell'ex associazione si trovano tutti nello stesso luogo ma non a Prato. Poche settimane fa peraltro la diocese ha comunicato la soppressione voluta dalla Santa Sede dell'Associazione Discepoli dell'Annunciazione. Il provvedimento assunto dalla Congregazione Vaticana per la vita religiosa prima indipendentemente dall'avvio del procedimento penale canonico e delle indagini della Procura è basato su gravi mancanze riguardanti il carisma e lo svolgimento della vita religiosa all'interno della comunità oltre che ad avvenire meno degli aderenti. Ancora mercoledì cronaca sono stati denunciati marito e moglie perché percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Percepivano senza averne i requisiti 1000 euro al mese a titolo di reddito di cittadinanza. Finire nei guai due coniugi che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato al termine di una indagine condotta dai carabinieri della stazione di Carmignano in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Prato. Le indagini hanno consentito di appurare che marito e moglie avevano detto il falso dichiarando di non percepire alcun reddito e omettendo di comunicare informazioni dovute al fine di ottenere il sussidio. Dopo una serie di appostamenti e pedinamenti e grazie anche ad accertamenti incrociati con le banche dati IMSS, i militari dell'arma hanno accertato senza non poche difficoltà che il marito sebbene avesse dichiarato di non percepire alcun reddito lavorava presso un circolo sportivo. La moglie invece avendo iniziato a lavorare come collaboratrice domestica non aveva comunicato le variazioni di reddito per la revoca del reddito di cittadinanza. I carabinieri ricordano che coloro che percepiscono indebitamente il reddito di cittadinanza possono incorrere nella reclusione da due a sei anni se al fine di ottenere il sussidio rendono dichiarazioni false, forniscono documenti attestanti informazioni non vere o omettano notizie dovute. Passiamo adesso a giovedì 30 gennaio quando è iniziata la campagna di crowdfunding per finanziare spazi e attività per bambini nelle case di accoglienza del centro antiviolenza La Nara. Al via la nuova sfida solidale della fondazione Il Cuore si scioglie per sostenere bambini e bambine vittime di violenza assistita intrafamiliare ospitati nelle case rifugio di seconda accoglienza gestite dal centro antiviolenza La Nara. È partito infatti il crowdfunding Gioca Nara che ha un duplice obiettivo l'allestimento di uno spazio gioco per minori e la strutturazione e attuazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per le madri vittime e di aiuto per superare le difficoltà scolastiche per i bambini Crescere in una famiglia dove c'è violenza dove c'è maltrattamento nei confronti della propria madre significa dolore significa confusione se solo pensiamo quanto deve essere difficile e doloroso pensare che ti deve proteggere e che ti fa paura e lavorare con loro rimettere al centro di un progetto che è Gioca Nara che è un progetto di attenzione di sostegno anche di gioco ma anche di osservazione e di aiuto ai bambini che ospitiamo all'interno delle nostre case è per noi molto importante oltre a questo un intervento grande e importante è quello sulle mamme cioè lavorare sulla loro genitorialità farle tornare mamme serene è per noi molto importante Gioca Nara è uno dei progetti della quarta edizione di Pensati con il Cuore la campagna di crowdfunding lanciata dalla fondazione Il Cuore si scioglie con il centro antiviananza Nara la fondazione e le sezioni Soci Coppa di Prato vogliono così portare l'attenzione sul fenomeno della violenza assistita che colpisce i bambini che vivono situazioni di soprusi in famiglia Per Prato è la riprova dell'attenzione che il territorio tutto ha nei confronti delle donne che hanno subito violenza e dei loro figli bambini che troveranno nella casa rifugio nella casa di seconda accoglienza della Nara personale qualificato che gli aiuterà a superare o a cercare di superare a cominciare un percorso per superare quello che è stato una violenza importante anche per la loro crescita Fino al 29 febbraio è possibile contribuire alla raccolta fondi online collegandosi alla piattaforma Eppela oppure partecipando agli eventi organizzati sul territorio dal centro antiviolenza Nara e dalla sezione Soci Coppa di Prato come per esempio il pranzo in programma il prossimo 9 febbraio nel punto vendita di via delle Pleiadi Venerdì 31 gennaio invece ci siamo occupati della vicenda dei baby calciatori cadono infatti quasi tutte le accuse a carico di toccafondi un'ondata di assoluzioni sulle frodi sportive sentite Dopo i patteggiamenti di alcuni degli imputati arriva un'ondata di assoluzione per 15 delle 19 persone per le quali la procura di preto aveva chiesto il rinvio a giudizio nell'ambito dell'inchiesta Calciopoli a pronunciare la sentenza ieri dopo una lunga camera di consiglio è stato il giudice per le udienze preliminari Daniela Migliorati a processo andrà Paolo Toccafondi ma solo per un capo di imputazione il patron del Prato è stato assolto dalle accuse più gravi falsità ideologica e per aver promosso l'ingresso illegale di alcuni giovani calciatori dall'Africa fra cui l'attaccante Christian Cuamè il presidente dell'ACI Prato dovrà rispondere soltanto dell'ipotesi di reato di favoreggiamento reale nei confronti di Stefani Inneti la donna ivoriana che ha pateggiato una pena per l'ingresso in Italia del giovane calciatore Desmond Davilla fatto passare per suo figlio anziché suo nipote al fine di ottenere il ricongiungimento familiare prosciolto da tutte le accuse il segretario del Prato Alessio Vignoli assolto anche il carabiniere Goffredo Brienza pioggia di assoluzioni anche per gli indagati del filone relativo alle partite truccate nel calcio dilettanti che però nella giustizia sportiva hanno portato a pesanti penalizzazioni il Gup ha assolto dall'ipotesi di reato di frode sportiva tutti gli indagati l'ex arbitro di Serie A e all'epoca dei fatti designatore Matteo Trefoloni il fischietto Federico Masilunas l'allenatore della Sestese Enrico Gutili il direttore generale della Sina Lunghese Bruno Mugnai il dirigente sportivo Alvaro Finocchi Arcipreti Stefano Fiorini direttore sportivo del Porta Romana Fabrizio Giusti presidente dell'Aglianese Piero Colzi e Nicolò Terrafino rispettivamente presidente e giocatore del Firenze Ovest Cristian Prosperi calciatore della Bucinese Luca Brini e Filippo Zacchei allenatore e giocatore del Foiano per quanto riguarda il filone dei lavori allo stadio Lungo Bisenzio sono state accolte le richieste della procura e rinviati a giudizio l'architetto Luca Piantini ex dirigente dei lavori pubblici del comune di Prato oltre a Sandro Grassi e Giuseppe Mazzeo della Castelnuovo Lavori l'accusa è di aver prodotto documenti falsi compilando verbali di somma urgenza per giustificare i lavori già eseguiti a Piantini viene contestato anche il depistaggio delle indagini e di aver indotto in errore il sindaco Biffoni per avergli consegnato una relazione poi utilizzata dal primo cittadino nel rispondere ad un'interrogazione in consiglio comunale riguardo ai lavori allo stadio il procuratore Nicolosi ha annunciato che la procura presenterà ricorso nei confronti delle assoluzioni pronunciate dal GUP e ancora a venerdì 31 gennaio è stata approvata all'unanimità la mozione sui cristiani perseguitati nel mondo una mozione in consiglio comunale Demos ha detto un dramma su cui occorre riflettere è stata votata all'unanimità con 27 voti favorevoli la mozione presentata dal capogruppo consigliare di Demos Massimo Carlesi sulle persecuzioni di cristiani nel mondo ad oggi i cristiani perseguitati a causa della propria fede sono oltre 245 milioni mentre ammontano ad oltre 4.000 i fedeli uccisi nel 2018 un dramma che Carlesi ha voluto portare all'attenzione dell'aula del consiglio comunale per dare un segnale forte di vicinanza e sostegno e che è stato raccolto da tutte le parti politiche parliamo anche delle donne le donne cristiane perseguitate sono uno dei gruppi più numerosi vengono rapite violentate e purtroppo costrette al matrimonio con i loro guzzini a volte devono rifiutare anche rinunciare anche ai loro figli in molti casi vengono mutilate perché mutilare le donne significa mutilare una comunità proprio nel profondo del suo cuore cosa può fare la città quindi per mantenere alta l'attenzione su questo dramma sostenere le associazioni appunto che si occupano di questo e quindi noi per questo motivo abbiamo votato favorevolmente perché è una cosa gravissima un problema grande e professare la propria fede è un atto di libertà una educazione per la libertà religiosa riportare quelle che sono anche i nostri valori dell'identità cristiana per chi vuole professarli è un tema fondamentale perché la libertà in qualsiasi sua forma soprattutto quella religiosa è fondamentale per ogni uomo nella mozione Carlesi invita la giunta a farsi parte attiva a livello locale e nazionale per tutelare le minoranze cristiane nel mondo chiede inoltre che in città vengano sostenute le associazioni a favore di queste popolazioni e propone di intitolare una via una piazza ai martiri della fede cristiana per ricordare chi ha perso la vita appunto è un messaggio che noi diamo dal consiglio comunale tra l'altro sulla mozione c'è scritto anche che noi impegniamo il sindaco a intitolare una via una piazza a questo tipo di tema e quindi insomma è un segnale che abbiamo dato in maniera convinta appoggiando tra l'altro all'unanimità di tutto il consiglio comunale questo ordine del giorno ieri sabato primo febbraio si è svolta nell'auditorium della camera di commercio di prato la premiazione del premio appunto santo stefano la decima edizione di questo riconoscimento che la città di prato dedica alle aziende virtuose del territorio quest'anno il riconoscimento è andato all'anificio bellucci alla filatura biagioli modesto e a filpucci prato si fonda sul lavoro che nasce dalla creatività e dall'ingegno lo ha sottolineato Giovanni Masi il cenciaiolo di vergaio ideatore del premio santo stefano giunto quest'anno alla decima edizione nel 2010 le istituzioni cittadine di prato decisero di valorizzare le aziende del distretto industriale capaci di avere successo sul mercato nel rispetto delle regole e della concorrenza in un difficilissimo momento di crisi economica internazionale dieci anni dopo ancora una volta il comitato promotore del premio composto da diocesi comune provincia camera di commercio e fondazione cassa di risparmio di prato ha consegnato lo stefanino d'oro a tre aziende si tratta di lanificio Mario Bellucci filatura Biagioli Modesto e filpucci tre imprese storiche del comparto tessile che hanno saputo esportare il made in prato nel mondo riuscendo a coniugare tradizione innovazione e sostenibilità ambientale a chi lo dedicate questo premio santo stefano a tutti i dipendenti della filpucci cerchiamo sempre di sono loro la vera spina dorsale della nostra azienda sono loro che portano avanti ogni giornalmente gli obiettivi aziendali quindi sicuramente tutti i dipendenti della filpucci e collaboratori della filpucci naturalmente questa è una data che non scorderò mai perché è un'emozione molto forte e avrò sempre per sempre riconoscenza verso tutta la città il comitato promotore tutti quelli che quest'anno hanno scelto di premiare la nostra azienda è sicuramente una delle più grosse soddisfazioni che abbiamo mai avuto ha sempre lottato anche la famiglia i babbo e tutti per avere questo premio è stato un riconoscimento bellissimo sicuramente noi siamo un'azienda piccola però un'azienda molto familiare dove sia le persone che lavorano con noi che i tersisti lavorano tutti insieme in un team per arrivare a produrre penso dei tessuti molto belli una menzione speciale è stata riconosciuta all'azienda agricola Marchesi Pancrazi di Montemurlo che ha fatto grande il nostro territorio grazie all'esportazione di olio e vino nel mondo l'evento è stato condotto dalla giornalista Giulia Ghizzani e realizzato da TV Prato che oltre a organizzare la cerimonia ha prodotto i video di presentazione delle aziende vincitrici realizzati con il contributo di quattro scatenatissimi studenti del Buzzi gli Stefanini vere e proprie opere d'arte sono stati creati per l'occasione dall'artista pratese Gabriella Furlani e l'ospite e l'ospite d'onore di questa decima edizione del premio Santo Stefano è stato il saggista Massimo Folador che ha invitato la comunità a fare rete e a non accontentarsi del bene individuale lo Stefanina ha un senso se ci aiuta a sognare insieme un futuro diverso e a non accontentarci del presente è fondamentale guardare al domani in modo unitario così il vescovo Monsignor Giovanni in Erbini al suo debutto sul palco del premio si è rivolta ai tanti presenti in sala con un messaggio chiaro al fare comunità una delle belle lezioni da recepire da questo discorso è che tutti hanno parlato dell'avere sempre squadra del fare gruppo dell'avere alle spalle una famiglia e questo ci richiama questa realtà semplice non si esce dalle situazioni difficili dalle crisi da soli è sempre una storia comune è sempre un avere risorse così nella persona ma poi anche nella famiglia nei collaboratori nel territorio e questa credo sia una delle strade obbligate che ci può portare fuori dalle grandi crisi per la decima edizione siamo state premiate tre aziende che stanno dentro quello che comunque vada resta l'architrave economica della nostra città nel Tessile e il Tessile con tutte le sue difficoltà il Tessile che ha conosciuto momenti difficilissimi che attraversa comunque vada una fase che certo non è quella in discesa come abbiamo conosciuto in altri momenti ma che appunto citando Vasco Rossi che in una sua opera dice sembrava la fine del mondo ma sono ancora qua premiando tre aziende appunto che di questo hanno fatto la loro storia e continuano a fare la loro storia producono posti di lavoro e ricchezza credo che bisogna guardare con la dovuta preoccupazione ma la giusta fiducia al futuro e soprattutto al futuro del Tessile ospite speciale di questa decima edizione del premio Santo Stefano è stato il manager e docente universitario Massimo Folador che ha scritto nella sua lunga carriera diverse pubblicazioni dedicate alla formazione aziendale una fra tutte la regola di San Benedetto una saggezza antica al servizio dell'impresa moderna nei suoi saggi Folador attirizza infatti l'utilizzo della regola benedettina come buona regola di vita e come strumento di buona gestione imprenditoriale nel corso della premiazione all'auditorium della Camera di Commercio Folador intervistato dalla giornalista economica del Tirreno e Lania Reali ha invitato i pratesi alle aziende del distritto a fare rete a Prato è molto forte il fenomeno dello sfruttamento che riguarda alcune aziende e alcuni lavoratori soprattutto stranieri quindi qui in città ci sono persone che vengono sfruttate e lavorano tantissime ore al giorno per una paga da fame ecco l'imprenditore il lavoratore il singolo cittadino di Prato cosa può fare? i monaci nel 500 e nel 600 e nel 700 inglobarono le grandi civiltà barbariche che erano forse ben peggio di quelle che noi oggi accogliamo ci fu un passaggio culturale che in qualche modo tenne poi nel tempo tenne conto delle differenze sostanziali e cercò di in qualche modo accogliendole di trovare punti d'incontro c'è da capire quanto questa eccellenza che il mercato chiede sia possibile all'interno di queste modalità di lavoro noi oggi possiamo dare quella risposta all'interno di comunità che non funzionano con lavoratori che lavorano male sfruttati o viceversa noi come nel rinascimento dobbiamo costruire botteghe che siano un'eccellenza per divenire eccellenza ecco questa è una riflessione che chiederà probabilmente anni di tempo e questa era l'ultima notizia Prato 7 termina qui ma rimanete con noi perché questa sera al termine appunto del nostro telegiornale andrà in onda la versione integrale della premiazione dello Stefanino d'Oro l'informazione di TV Prato torna poi lunedì alle 13.45 con il Tg del Giorno Grazie a tutti